Così si lasciò istruire di buon grado nell'arte di far bollire il sapone fatto di grasso di maiale, di cucire guanti di pelle lavabile, di mescolare ciprie fatte di farina, di frumento e di mandorle pestate e di radici di viole polverizzate. Arrotolò candele profumate fatte di carbone vegetale, sarnitro e segatura di legno di sandalo. Confezionò pasticco orientali pressando insieme mirra, resina di benzoino e polvere d'ambra. Impastò incenso, gomalacca, vetivere e cannella per farne palline da bruciare. Setacciò e schiacciò con la spatola pudro imperial fatta di foglie di rosa, fiori di lavanda e corteccia di cascariglia triturati. Mescolò belletti bianchi e azzurro vena e confezionò matite e grasse rosso carminio per le labbra. Elaborò la più fine polvere per unghie e gessi dentari dal sapore di menta. Mescolò liquidi per arricchire le parrucche e gocce antiverruca per i calli, sbiancalentigini per la pelle ed estratto di bella donna per gli occhi, balsamo di cantaride per i signori e aceto igienico per le signore. La fabbricazione di tutte le acquette e polverine, degli articoli dato elette di bellezza ma anche di misture di tè e di spezie, di liquori, di marinate simili, in breve tutto ciò che Baldini aveva da insegnargli e con la sua vasta cultura tradizionale, Grenoil lo imparò, in verità senza particolare interesse ma anche senza lamentarsi e con successo. Dimostrò invece un particolare interesse quando Baldini lo istruì nella fabbricazione delle tinture, degli estratti e delle essenze. Non si staccava mai di schiacciare noccioli di mandorle amare nel torchio a vite o di pestare semi di abel mosco o di triturare con la mezzaluna grassi gnocchi d'ambra grigia oppure di grattugiare radici di viole per poi macerare i frammenti in alcol della migliore qualità. Imparò a conoscere l'uso dell'imbuto separatore con cui si scindeva l'olio puro delle bucce di limone pressato dal torbido liquido resiguo. Imparò a fare seccare erbe e fiori stesi su reti in luoghi caldi e ombrosi e a conservare le foglie fruscianti in recipienti e cassapanche sicillati con la cera. Imparò l'arte di depurare le pomate, di preparare gli infusi, filtrarli, concentrarli, chiarificarli e rettificarli. Certo il laboratorio di Baldini non era adatto a produrre oli di fiori e di erbe in grande stile, del resto a Parigi sarebbe stato quasi impossibile trovare le quantità necessarie di piante fresche. Tuttavia all'occasione, quando al mercato si potevano trovare a poco prezzo rosmarino fresco, salvia, menta o semi danice, oppure quando arrivava una partita più grossa di bulbi di iris o di radici di valeriana, di cumino, di noce moscata o fiori di garofano secchi, l'avena d'alchimista di Baldini si metteva a pulsare e lui tirava fuori il suo lambicco grande, una tinozza di rame per distillare sulla quale era applicato un recipiente condensatore. Un cosiddetto lambicco a testa di moro, come annunciava con orgoglio Baldini, con cui già quarant'anni prima aveva distillato la vanda all'aperto sulle pendici meridionali della Liguria e sulle alture dell'Uberon. E mentre Greneux sminuzzava il prodotto da distillare, Baldini, con fretta febbrile, dato che la rapida elaborazione era l'alfa e l'omega del mestiere, accendeva un focolare coperto, sul quale collocava un paiolo di rame riempito di una buona quantità d'acqua, gettava lì dentro le parti vegetali, tappava sul manicotto il doppio imbuto a testa di moro e vi collegava due tubicini per l'acqua che affluiva e defluiva. Questa raffinata struttura per il raffreddamento dell'acqua, spiegava Baldini, l'aveva installata lui stesso soltanto in un secondo momento, perché ovviamente a suo tempo all'aperto avevano raffreddato l'acqua unicamente facendo vento, poi soffiava sul fuoco per ravvivarlo. A poco a poco il liquido nel paiolo cominciava a gorgogliare e dopo un po', prima pian piano a goce, poi in rivoletti sottili come fili, il distillato scorreva dalla terza canna della testa di moro in una bottiglia fiorentina che Baldini vi aveva messo sotto. Dapprima aveva un aspetto del tutto insignificante, come una zuppa acquosa e torbida, ma poco a poco, soprattutto quando la bottiglia piena era stata spostata di fianco a riposare e sostituita da un'altra, la broda si scindeva in due liquidi diversi. Sotto restava l'acqua di fiori o di erbe, sopra galleggiava uno spesso strato d'olio. Facendo scolare con cautela attraverso il collo a beccuccio della bottiglia fiorentina l'acqua di fiori, che ora aveva un aroma delicato, restava indietro l'olio puro, l'essenza, l'anima della pianta dal profumo intenso. Grenouille era affascinato da questo processo. Se mai qualcosa nella vita aveva suscitato entusiasmo in lui, certo non un entusiasmo visibile dall'esterno, bensì nascosto come se ardesse a fiamma fredda, era proprio questo procedimento, di carpire alle cose la loro anima odorosa, con il fuoco, l'acqua, il vapore e una parecchiatura inventata. Quest'anima odorosa, l'olio essenziale, era appunto la parte migliore delle cose, l'unica che destasse il suo interesse. Gli insulsi residui, fiori, foglie, buccia, frutto, colore, bellezza, vivezza e tutto ciò che di superfuo poteva ancora esserci, lo lasciavano indifferente. Non erano che involucri e zavorra, cose da buttare. Di tanto in tanto, quando il distillato era diventato trasparente come acqua, toglievano l'alambicco dal fuoco, lo aprivano e rovesciavano la roba stracotta che aveva un aspetto floscio e smorto di paglia inzuppata, di ossa sbiancate d'uccellini, di verdura bollita troppo a lungo, era scialbe fibrosa, poltigliosa, astento riconoscibile per quel che era in origine disgustosamente cadaverica ed era quasi totalmente depauperata del proprio odore. La gettavano fuori dalla finestra nel fiume, poi si rifornivano di altri vegetali freschi, aggiungevano acqua e rimettevano l'alambicco sul focolare. E di nuovo il paiolo cominciava a gorgogliare, e di nuovo l'umore vitale dei vegetali scorreva nelle bottiglie fiorentine. Questo durava spesso tutta la notte. Baldini sorvegliava il fuoco, Grenoie teneva d'occhio le bottiglie, altro non c'era da fare nel periodo intercorrente tra i mutamenti. Sedevano su sgabelli attorno al fuoco, in balia della pesante tinozza, affascinati entrambi, sia pure per ragioni molto diverse. Baldini si godeva il calore del fuoco e il rosso guizzante delle fiamme e del rame. Amava il crepitio del legno che ardeva e il gorgoglio dell'alambicco, perché tutto era come un tempo. Allora sì che c'era da entusiasmarsi. Andava in negozio a prendere una bottiglia di vino, perché il calore gli metteva sete, e bere il vino, anche questo, era come una volta. E poi cominciava a raccontare storie di un tempo, non finiva mai. Della guerra di successione spagnola, al cui esito aveva contribuito in misura decisiva, combattendo contro gli austriaci. Dei camisardi, assieme ai quali aveva reso le S20 un luogo insicuro. Della figlia di un ugonotto dell'Esterel, che, inebriata dal profumo della lavanda, aveva ceduto la sua volontà. Dell'incendio di un bosco, che era stato lì per provocare, che poi si sarebbe certo esteso a tutta la Provenza. Sicuro, come due più due fanno quattro, perché c'era un forte a Mistral. E raccontava ancora e sempre della distillazione all'aperto, di notte, alla luce della luna, con il vino e con il canto delle cicale, e di un'essenza di lavanda che aveva fabbricato in quell'occasione, così fine e intensa che gliel'avevano pagata appeso in argento. Del suo apprendistato a Genova, dei suoi anni di peregrinazioni e della città di Grasse, in cui c'erano tanti profunieri quanti calzolai altrove, e alcuni di loro erano così ricchi che vivevano come principi in case splendide, con giardini e terrazze ombreggiate e sale da pranzo rivestite di legno, nelle quali mangiavano impiatti di porcellana, composate d'oro, e così via. Simili storie raccontava il vecchio Baldini, e ci beveva sopra del vino, e il vino e il calore del fuoco e l'entusiasmo delle sue storie gli infuocavano le guance. Ma Grenoy, che sedeva un po' più nell'ombra, non stava fatta sentire. Non lo interessavano le vecchie storie, lo interessava soltanto il procedimento. Fissava ininterrottamente il cannello in cima all'alambicco, da cui defluiva il distillato in un rivolo sottile, e mentre lo fissava fantasticava di essere lui stesso una sorta d'alambicco, nel quale c'era un gorgoglio come in questo, e dal quale sgorgava un distillato come questo, solo che era migliore, più nuovo, più insolito, un distillato di quelle piante raffinate che aveva coltivato nel proprio animo, che fiorivano in lui, di cui lui solo aveva sentito l'odore, e con il loro profumo straordinario avrebbero potuto trasformare il mondo in un fragrante giardino dell'Eden, nel quale per lui l'esistenza dal punto di vista olfattivo, sarebbe stato in un certo modo tollerabile, essere un grande alambicco, che inondasse tutto il mondo con il suo distillato autoprodotto. Era il sogno con cui Grenoie si abbandonava, ma mentre Baldini, acceso dal vino, eccedeva sempre più nelle storie di un tempo, e si lasciava trascinare sempre più dai propri entusiasmi, Grenoie lasciò ben presto da parte le sue bizzarre fantasticherie. Per prima cosa si tolse dalla testa la figurazione del grande alambicco, e riflettè invece su come avrebbe potuto utilizzare le conoscenze acquisite di recente per fini più concreti. Non ci volle molto perché diventasse uno specialista nel campo della distillazione. Scoprì, e in questo il suo naso lo aiutò più che non il meccanismo delle regole di Baldini, che il calore del fuoco esercitava un'influenza decisiva sulla buona riuscita del distillato. Ogni pianta, ogni fiore, ogni sorta di legno e ogni frutto oleoso richiedevano una procedura specifica. Ora occorreva che si sviluppasse un vapore molto intenso. Ora bastava che la sostanza ribollisse moderatamente, e molti fiori davano il meglio di sé soltanto facendoli scaldare a fuoco molto basso. Ugualmente importante era la depurazione. La lavanda e la menta si potevano distillare a mazzetti interi. Altri vegetali dovevano essere sezionati, sfogliati, tritati, grattugiati, pestati o persino trattati come il mosto, prima di essere messi nel paiolo di rame. Ma alcuni non si potevano distillare affatto, e questo esasperava al massimo Grenoie. Dopo avere visto con quanta sicurezza Grenoie manneggiava l'apparecchiatura, Baldini gli aveva lasciato mano libera con l'alambicco, e Grenoie aveva utilizzato ampiamente questa libertà. Mentre di giorno miscelava profumi e preparava altri prodotti aromatici e speziati, di notte si impegnava unicamente nell'arte misteriosa del distillare. Era sua intenzione produrre sostanze odorose totalmente nuove, e con esse poter fabbricare almeno alcuni dei profumi che portava dentro di sé. In un primo tempo ebbe persino piccoli successi. Riuscì a produrre un olio di fiori d'ortica e di semi di nasturzio, e un'acqua ottenuta dalla corteccia fresca di arbusto, di sambuco e di rami di tasso. In realtà il profumo dei distillati era piuttosto di simile da quello delle sostanze di partenza, tuttavia era sempre abbastanza interessante da servire a elaborazioni successive. Però c'erano sostanze con le quali il procedimento faliva totalmente. Ad esempio, Grineuio cercò di distillare l'odore di vetro, l'odore fresco e argilloso del vetro liscio che le persone normali non percepivano affatto. Si procurò vetro da finestra e vetro da bottiglie, e lo trattò in grossi pezzi, in schegge, in frammenti e sotto forma di polvere, senza il minimo risultato. Distillò l'ottone, la porcellana e la pelle, granaglie e ciotoli. Distillò terra pura, sangue, legno e pesci freschi, anche i suoi capelli. Alla fine distillò persino l'acqua, l'acqua della senna, il cui odore particolare gli sembrò degno di essere conservato. Con l'aiuto dell'alambicco, credeva di poter estrarre da queste sostanze il loro aroma caratteristico, come si poteva fare con il timo, la lavanda, i semi di cumino. Ma non sapeva che la distillazione non è altro che un processo di separazione delle sostanze miste nelle loro singole componenti volatili e meno volatili, e che per la profumeria è utile solo in quanto l'olio essenziale, volatile, di certi vegetali può essere isolato dai loro residui privi di aroma o con poco aroma. In sostanze nelle quali questo olio essenziale si perde, il processo di distillazione ovviamente non ha alcun senso. Per noi uomini d'oggi, esperti nel campo della fisica, tutto ciò è di una evidenza immediata, ma per Grenoy questo riconoscimento fu il risultato raggiunto con fatica di una lunga catena di tentativi deludenti. Per mesi e mesi, notte dopo notte, era rimasto seduto accanto all'allambicco e aveva cercato in ogni modo possibile, tramite la distillazione, di produrre profumi radicalmente nuovi, profumi che in forma concreta non si erano ancora mai sentiti al mondo, e non ne aveva ricavato nulla, eccetto un paio di ridicoli oli vegetali. Dal pozzo profondo incommensurabilmente ricco della sua immaginazione non aveva estratto una sola goccia di essenza odorosa in concreto, non era riuscito a realizzare neppure un atomo di tutto ciò che gli era alleggiato dinanzi in fatto di odori. Quando si convinse del suo fallimento, sospese le ricerche e si ammalò con pericolo della vita. Gli venne una febbre alta che nei primi giorni fu accompagnata da essudazioni e in seguito, quando i pori della pelle non bastarono più, produsse innumorevoli pustole. Il corpo di Grenoil era disseminato di queste vescichette rosse. Molte scoppiarono e riversarono il loro contenuto acquoso per poi riempirsi di nuovo. Altre si ingrandirono in veri e propri foruncoli rossi, si enfiarono ed esplosero come crateri e sputtarono fuori pus, denso e sangue frammisto a muco giallo. Dopo qualche tempo Grenoil aveva l'aspetto di un martire lapidato dall'interno, con centinaia di ferite purulente. A questo punto Baldini ovviamente si preoccupò. Per lui sarebbe stato molto spiacevole perdere il suo prezioso apprendista proprio in un momento in cui si accingeva a estendere i suoi affari oltre i confini della capitale, anzi persino di tutto il paese. Infatti era sempre più frequente che non soltanto dalla provincia ma anche dalle corti straniere arrivasse le ordinazioni di quei profumi nuovi che facevano impazzire Parigi. E Baldini accarezzava l'idea di fondare una filiale in Faubourg Saint Antoine per soddisfare questa domanda. Una vera e propria piccola manifattura da dove i profumi più richiesti miscellati en gros e confezionati en gros in graziosi flaconcini imballati da graziose giovanette sarebbero stati spediti in Olanda, in Inghilterra e in Alemania. Per un maestro residente a Parigi un'impresa di questo genere non era proprio legale ma ultimamente Baldini disponeva di protezione in alto loco. I suoi profumi raffinati gliene avevano procurate non soltanto presso l'intendente ma anche presso importanti personalità quali l'appaltatore del Dazio di Parigi e un membro del gabinetto reale delle finanze. Nonché promotore di imprese economicamente fiorenti quale era il signor Fedeux de Brou. Questi l'aveva fatto sperare persino nel privilegio del re. La cosa migliore che ci si potesse augurare sarebbe stata una specie di lascia passare per eludere qualsiasi ingerenza statale e corporativa. La fine di tutte le preoccupazioni professionali è una garanzia perenne di benessere sicuro e incontestato. E poi c'era anche un altro progetto che Baldini covava, una sorta di progetto preferenziale opposto a quello della manifattura Infoburg Saint Antoine che avrebbe prodotto, se non articoli di massa, cose che in molti potevano acquistare. Voleva creare profumi personali per un numero scelto di clienti d'alto, altissimo rango o piuttosto voleva farli creare profumi che come vestiti tagliati su misura si adattassero a una persona sola, potessero essere usati soltanto da questa persona e portassero il suo illustre nome. immaginava un parfum della marquise di Cernay, un parfum della marichelle di Villar, un parfum del duc d'Anguillone e così via. Sognava un parfum della madame la marquise di Pompadù e perfino un parfum della San Majesté Leroy, in un flaccone d'agata preziosamente smerigliato, incastonato in oro cesellato con il nome Giuseppe Baldini profumiere, nascosto, inciso sul lato interno del supporto. Il nome del re e il suo stesso nome uniti nel medesimo oggetto. Simili splendide fantasticherie era arrivato a immaginare Baldini e ora Cernay si era ammalato. Quando Grimal, Dio e l'abbia in gloria, aveva giurato che Cernay non aveva mai niente, che sopportava tutto, che era refrattario persino alla peste nera, di punte in bianco era mortalmente marato. E se fosse morto? Orrore! Con lui sarebbero morti gli splendidi progetti della manifattura, delle graziose giovinette, del privilegio e del profumo del re. Quindi Baldini decise di non lasciare nulla di intentato per salvare la preziosa vita del suo apprendista. Le dispose un trasferimento del tavolaccio del laboratorio in un letto pulito al piano superiore. Fece rivestire il letto di Damasco, aiutò con le sue mani a portare sul malato per la scala stretta e ribita, sebbene provasse un indicibile disgusto per le pustole e i foruncoli purulenti. Ordinò alla moglie di far bollire brodo di pollo con vino, mandò a chiamare il medico più rinomato del quartiere, un certo Procopio, che fu costretto a pagare in anticipo 20 franchi, soltanto perché quello si prendesse il disturbo di venire. Il dottore venne, sollevò lenzuolo con le dita affusolate, diede un'occhiata al corpo di Grenoy, che in verità sembrava come fracassato da mille pallottole, e lasciò la stanza senza neppure aver aperto la borsa che il suo assistente gli portava sempre dietro. Il caso, cominciò a dire a Baldini, era chiarissimo. Si trattava di una varietà sifilitica di vaiolor nero mista a morbillo suppurativo in stadio ultimo. Quindi un trattamento non era più necessario, poiché non era più possibile eseguire un salazzo regolamentare su quel corpo in disfacimento, più simile a un cadavere che a un organismo vivente. E sebbene non si avvertisse ancora il puzzo pestilenziale tipico del decorso della malattia, il che certo stupiva e dal punto di vista strettamente scientifico rappresentava una piccola anomalia, non poteva sussistere il minimo dubbio sul decesso del paziente entro le successive 48 ore quanto è vero che lui si chiamava dottor Procopio. Detto questo, si fece dare altri 20 franchi per avere concluso la visita e, fatta la prognosi, 5 franchi erano restituibili nel caso che gli avessero lasciato il cadavere con quella sintomatologia tradizionale a scopi dimostrativi e si congedò. Baldini era fuori di sé, si lamentava e urlava di disperazione, si mordeva le mani dalla rabbia per la propria sorte. Ancora una volta i progetti del suo grande, immenso successo erano distrutti poco prima di arrivare alla meta. A suo tempo i colpevoli erano stati Pellissier e i suoi complici con la loro inventiva. E ora questo ragazzo, con il suo fondine esauribile di odori nuovi, questo piccolo mascalzone che valeva tanto oro quanto pesava, proprio adesso, nel momento dell'ascesa professionale, doveva prendersi il vaiolo sifilitico e il morbillo supurativo in stadio ultimo. Proprio adesso? Perché non fra due anni? Perché non fra un anno? Fino allora avrebbe potuto sfruttarlo come una miniera d'argento, come un asino d'oro, ma no, moriva adesso, sacramento di un dio, fra 48 ore. Per un breve istante Baldini si culò nel pensiero di recarsi in pellegrinaggio a Notre Dame, di accendere una candela e impetrare dalla sacra madre di Dio la guarigione per Grenouille. Ma poi lasciò cadere il pensiero, perché il tempo era troppo poco. Corse a prendere inchiostro e carta e allontanò la moglie dalla stanza del malato. Voleva avvegliarlo lui stesso. Poi prese posto su una sedia accanto al letto, con i fogli per prendere appunti sulle ginocchia, la penna in tinta d'inchiostro in mano e cercò di carpire a Grenouille una confessione in tema di profumi. Non voleva certo, per l'amor di Dio, portarsi via zitto zitto i tesori che aveva dentro di sé. Piuttosto adesso, nelle due ultime ore, doveva lasciare un testamento a mani fidate, affinché i posteri non fossero defraudati dei profumi migliori di tutti i tempi. Lui, Baldini, avrebbe conservato fedelmente questo testamento, questo canone formale dei profumi più sublimi mai sentiti al mondo, e l'avrebbe fatto prosferare. Avrebbe annesso gloria immortale al nome di Grenouille? Sì, avrebbe deposto, e qui lo giurò per tutti i santi, il migliore di questi profumi ai piedi del re in persona, in un flaccone d'agate incastonato in oro cesellato e con incisa la dedica di Jean-Baptiste Grenouille profumiere in Parigi. Così, disse, o meglio, così bisbigliò Baldini all'orecchio di Grenouille, scongiurando, supplicando, adulandolo senza tregua. Ma era tutto inutile. Di sé Grenouille non dava altro se non secrezione acquosa e pus sanguinolento. Giaceva muto nel dabasco e si liberava di questi umori disgustosi, ma non della più insignificante formula di un profumo. Baldini avrebbe voluto strozzarlo, colpirlo a morte, avrebbe voluto. Avrebbe proprio avuto voglia di far uscire a forza di botte i preziosi segreti del corpo morente, se avesse avuto una speranza di successo e se la cosa non fosse stata in così lampante contraddizione con la sua concezione cristiana dell'amor prossimo. E così continuò a mormorare con voce flautata nei toni più dolci e ad accarezzare il malato e a tamponare con pezze umide, per quanto gli costasse uno sforzo atroce, quella fronte bagnata di sudore e quei vulcani in eruzione, che erano le sue ferite, e lo imboccò con cucchiaiate di vino per indurre la sua lingua a parlare tutta la notte, in vano. All'alba rinunciò. Si gettò esausto in una poltrona all'altro capo della stanza e si mise a fissare, neppure più furibondo, bensì ormai soltanto in preda a una quieta rassegnazione, il piccolo corpo morente di Grenoie, là sul letto, che non poteva né salvare né derubare, da cui non poteva ricavare più nulla per sé. Era soltanto costretta ad assistere in attivo al suo sfacelo, come un capitano assiste all'affondamento della nave che porta con sé nel fondo tutte le sue ricchezze. A un tratto le labbra del malato si aprirono, e con una voce che per limpidità e fermezza lasciava presagire ben poco l'imminente decesso, chiese. «Dica, maître, esistono altri mezzi, oltre alla torchiatura e alla distillazione, per estrarre l'aroma di una sostanza?» Baldini, pensando che la voce fosse scaturita dalla propria immaginazione o dall'aldilà, rispose meccanicamente «sì, esistono». «Quali?» si sentì chiedere dal letto. Baldini spalancò gli occhi stanchi. Grenoie giaceva immobile sul cuscino. Aveva forse parlato il suo cadavere? «Quali?» sentì chiedere di nuovo, e questa volta Baldini individuò il movimento sulle labbra di Grenoie. «Ora è finita», pensò, «ora se ne va. Questo è il delirio della febbre o l'agonia della morte!» e si alzò, si avvicinò al letto e si chinò sul malato. Questi aveva aperto gli occhi e guardava Baldini con lo stesso sguardo, stranamente vigile, con cui l'aveva fissato al primo incontro. «Quali?» Allora il cuore di Baldini ebbe un sussulto, non voleva negare un morente l'ultima volontà, e rispose «Ne esistono tre, figlio mio, l'enflorage au chaud, l'enflorage à foie e l'enflorage à l'huile. Sotto molti aspetti sono superiori alla distillazione e si usano per ottenere i migliori tra tutti i profumi, quello del gelsomino, della rosa e dei fiori d'arancio». «Dove?» chiese Grenoie. «Nel sud», rispose Baldini, «soprattutto nella città di grassi». «Bene», disse Grenoie, e con ciò chiuse gli occhi. Baldini si rialzò lentamente. Era molto depresso. Raccolse qua e là i fogli per gli appunti, sui quali non aveva scritto una sola riga, e soffiò sulla candela per spegnerla. Fuori già albeggiava. Era stanco morto. «Sarebbe stato meglio chiamare un prete», pensò. Poi si fece un rapido segno di croce con la destra e uscì. Ma Grenoie era tutt'altro che morto. Si alzò, si limitò a dormire sodo e a sognare profondamente, e ritrasse i suoi umori dentro di sé. Le vesciche cominciavano già a seccarsi sulla sua pelle. I crateri purulenti si asciugavano, le sue ferite già si stavano chiudendo. Nel giro di una settimana era guarito.